La meditazione del sorriso interiore condotta da Alessandra Martignoni La meditazione del sorriso interiore si usa per iniziare qualsiasi meditazione del Tao Yoga. Siediti comodamente sul bordo della sedia con i piedi poggiati a terra. Tieni la schiena dritta ma non rigida. Comincia a rilassarti incrociando le mani sul grembo ponendo la sinistra sotto la destra. Chiudi gli occhi e comincia a sentire le piante dei piedi che sono a terra immaginando di assorbire l'energia dalla terra. Prendi consapevolezza del fatto che sei seduto su una sedia con le mani incrociate e la lingua che tocca il palato. Ora immagina di fronte a te uno schermo. Su questo schermo lascia che la tua fantasia immagini il tuo volto che sorride. Può essere il ricordo di un momento in cui ti sei sentito in pace con te stesso. Magari durante una passeggiata, su una spiaggia o in un bosco. ora porta l'attenzione sulla fronte, nel punto in mezzo alle sopracciglia. da questo punto immagina di assorbire l'energia del sorriso che è di fronte a te su quello schermo. rilassa la fronte e immagina che il terzo occhio si stia aprendo. Appena l'energia del sorriso si accumula in mezzo agli occhi comincia a riversarsi nel tuo corpo. Ora lascia all'energia del sorriso la libertà di scorrere in mezzo agli occhi e lungo il volto. rilassa le guance, rilassa il naso, rilassa la bocca e tutti i muscoli del viso. Lascia che la luce di questo sorriso raggiunga il collo. puoi ruotare la testa lentamente, delicatamente, da una parte all'altra, mentre fai questo. Ora lascia che l'energia del sorriso continui a circolare raggiungendo il tibu che si trova dietro la parte superiore dello sterno e immagina che stia brillando di salute. Forse puoi sentire il timo che si riscalda, che comincia a vibrare e che si apre come un fiore che sboccia. Ora lasciamo scorrere l'energia al cuore, puoi sollevare le mani unite e poggiare leggermente entrambi i pollici al centro del cuore. Lascia che la calda energia del sorriso possa fluire dal timo al cuore. Puoi assorbire l'energia del sorriso da quello schermo di fronte a te. Assorbire quell'energia nel punto tra le sopracciglia e lasciare che circoli come l'acqua di una cascata verso il cuore. Quando sorridi interiormente al cuore, si generano le virtù della gioia e della felicità. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per sentire che il cuore si sta rilassando e si espande con l'energia dell'amore. Questa espansione assomiglia ad un fiore che sboccia. Lascia che quelle esperienze piacevoli d'amore possano riempire di nuovo il tuo cuore con quel profondo sentimento. Amai il tuo cuore Immagina anche il cuore Cominci a rispondere al tuo sorriso sorridendo a sua volta Lascia che la gioia e la felicità che si sono generate nel cuore possano espandersi ora verso i polmoni Immagina di poter guardare nei polmoni con la tua vista interiore e sentirli espandersi Grazie a questa energia positiva Puoi immaginarli rosa di una consistenza un po' spugnosa Puoi ripulirli da qualunque forma di inquinamento energetico, fisico, emotivo con il sorriso Senti l'aria circolare dal naso e lungo i polmoni Seguendo la momento dopo momento E puoi ringraziare i polmoni per il respiro che ti mantiene in vita Ricordati che puoi tornare alla fonte dell'energia del sorriso Osservando quello schermo di fronte a te con il viso che ti sorride Ora lascia che l'energia del sorriso e dell'amore continui ad accumularsi nel cuore e che cominci a scorrere ai polmoni per poi dirigerla al fegato che si trova proprio sotto il polmone destro nella parte inferiore della cassa toracica Puoi usare la tua vista interiore per immaginarlo La sua superficie dovrebbe essere liscia e lucida Immaginarlo rilassato e libero Puoi immaginare di levigare ogni parte della sua superficie Immaginare di rilassare quelle parti che magari appaiono tese E ringrazia per il lavoro che svolge per disintossicare il corpo accumulare sangue produrre la bile Quando sorridi al fegato puoi dissipare la rabbia e dare spazio all'energia della cortesia Ora lascia circolare l'energia del sorriso dal fegato attraverso l'addome per raggiungere il pancreas che si trova nella parte inferiore e sinistra della cassa toracica e va direttamente dal plesso solare sotto il fegato all'area sottostante il polmone sinistro E puoi ringraziare il pancreas per produrre quegli enzimi necessari alla digestione all'insulina e regolare lo zucchero nel sangue Sorridigli e immaginano in buona salute che funziona regolarmente Sposta poi la tua attenzione verso sinistra e sorridi alla milza che si trova accanto al rene sinistro Non è importante se non sai dove si trova esattamente Sorridi in quella direzione ed entra lentamente in contatto con la milza Se ne hai bisogno Torna alla fonte dell'energia del sorriso di fronte a te e lascia che questa energia entri nel mezzo delle sopracciglia Per dirigersi giù fino alla milza E quando sorridi l'energia dell'amore si accumula nella milza e scorre verso i reni Sorridi ai reni Immaginali mentre si gonfiano di questa energia Puoi usare la vista interiore Per osservarli Essere sicuro che la loro superficie è piatta lucida e che stanno filtrando Quando gli sorridi la paura scompare e cresce la virtù della gentilezza Lascia che l'energia si accumuli fino a quando ne saranno pieni Poi dirigi l'energia del sorriso in basso verso la vescica L'uretra I genitali E per i neo Per le donne Sorridi all'energia accumulata nelle ovaie Nell'utero e nella vagina Ringrazia le ovaie Porta le energie sessuali Quella del sorriso e delle virtù Unite tutte all'ombelico E immagina che si accumulano in questo punto a spirale Per gli uomini Immagina che le energie accumulate Che le prostate possano scendere a spirale Verso la prostata e i testicoli Ringraziateli Per produrre gli ormoni E dare energia sessuale Porta le energie accumulate Dalle virtù Del sorriso E quelle sessuali Verso l'ombelico Lasciando che si accumulino in questo punto A spirale Riporta la tua attenzione alla fonte dell'energia del sorriso di fronte a te Diventa consapevole di questo punto in mezzo alle sopracciglia E lascia che vi scorra altra energia del sorriso Come l'acqua di una cascata Dirigendosi in basso verso gli organi Di nuovo Immergiti nell'energia del sorriso Lascia che scorra Nel timo Nel cuore Nei polmoni Nel fegato Nel pancreas Nella milza Nei reni Nella vescica E negli organi sessuali A questo punto Dovresti sentirti calmo e in pace Se vuoi fermarti ora Puoi sorridere all'omberico E raccogliere l'energia Indirizzandola al centro Mentre copri l'ombelico Con il palmo delle mani Dopo che hai terminato di sorridere ai tuoi organi Puoi volgere nuovamente L'attenzione alla fonte Dell'energia del sorriso Di fronte a te E dirigere questa energia In basso Verso l'apparato digerente Una volta accumulata L'energia in abbondanza In mezzo alle sopracciglia Lasciala scorrere dentro il naso E la bocca Immaginando che la saliva Si possa impregnare Di questa energia E scendendo Permi tutto il sistema digerente Muovendo la lingua Intorno e dentro alla bocca Puoi generare più saliva Puoi far scorrere la lingua Lungo i denti Con la punta che tocca le gengive Puoi iniziare dall'alto Con i denti posteriori di sinistra E muovere la lingua verso destra Puoi continuare con la parte inferiore Da destra a sinistra E tornare nuovamente ai denti superiori E cominciare di nuovo da sinistra Puoi ripetere questo esercizio Diverse volte E poi fare la stessa cosa Con la parte interna Dei denti e delle gengive Questo aiuta a produrre saliva in abbondanza Ora puoi immaginare Che la tua saliva Sia imbevuta Di tutte le energie del sorriso Che giungono Dal punto in mezzo alle sopracciglia Raccogli la saliva In una sorta di sfera Che rimane in mezzo alla lingua Porta la lingua al palato E inghiotti la saliva velocemente Come un boccone Che porterà l'energia nell'apparato digerente Portando l'energia del sorriso All'esofago Allo stomaco All'intestino grasso e tenue Al retto E all'ano Dedica il giusto tempo A rilassare lo stomaco E all'intestino Prenditi tutto il tempo Che è necessario Per portare l'energia del sorriso In ogni parte Dove puoi sentire malessere Terminato di sorridere Agli organi All'apparato digerente Rivolgi ancora una volta Alla tua attenzione Alla fonte dell'energia del sorriso Che si trova di fronte a te Assorbi l'energia del sorriso Attraverso il punto tra le sopracciglia All'interno del cervello L'emisfero destro e sinistro Muovi gli occhi in senso orario E in senso anti-orario 9-18 volte Per equilibrare gli emisferi del cervello Mentre lo stai facendo Puoi sentire l'energia Che si accumula e si muove Proprio così Come si muovono gli occhi Ora localizza la zona Della ghiandola pituitaria Del talamo Le ghiandole pineali E comincia a sorridere Alla ghiandola pituitaria Che sta circa 7-8 cm Dietro al terzo occhio Immaginando che cominci a fiorire Sorridi al talamo Che si trova direttamente sopra la colonna vertebrale Leggermente dietro e sopra la ghiandola pituitaria Sorridi alla ghiandola pineale Nella parte alta della testa Ora proietta l'energia del sorriso Sulla volta del cranio Immagina un raggio di luce Che brilla nell'emisfero sinistro E poi nella parte destra Facendo circolare l'energia del sorriso nel cervello E poi concentrarla di nuovo nel suo centro Continua a far circolare l'energia del sorriso Nella parte posteriore della testa E fa scendere in basso Lungo la colonna vertebrale Vertebra dopo vertebra Le prime sette vertebre cervicali Le dodici vertebre toraciche Le cinque vertebre lombari Immagina di lasciar scorrere l'energia Intorno ad ogni vertebra E ogni disco intervertebrale E poi sorridi alle cinque vertebre dell'area lombosacrale E alle quattro del coccige Per gli uomini Copri l'ombelico con entrambe le mani La sinistra sopra la destra Massaggia l'ombelico con un movimento a spirale Verso il fianco destro in senso orario 36 volte 36 volte Per le donne Copri l'ombelico con entrambe le mani La sinistra sopra la destra E massaggia l'ombelico con un movimento a spirale verso il fianco sinistro In senso antiorario 36 volte E massaggia l'ombelico con un movimento a spirale verso il fianco sinistro E massaggia l'ombelico con un movimento a spirale verso il fianco sinistro In senso antiorario per uomini e donne cambiate direzione e fatelo 24 volte gli uomini con una spirale che si avvolge in senso antiorario e le donne con una spirale che si avvolge in senso orario ogni giro avvicinati sempre di più all'ombelico hai così completato il sorriso interiore puoi fare questo esercizio appena sveglio è il miglior sistema per sciogliere lo stress grazie